Pronto? Sì? Dite a me. Ringraziamo il signore. Ma che mi sta dicendo? Il vigile in quel momento gli disse ma lei avrà una compagna, una moglie la dobbiamo avvisare, dobbiamo dire qualcosa ha detto no, lasciatela stare lei non deve sapere niente mentre bruciava Mi sono proprio stancato proprio che si fatti a rinunciare adesso è più facile che si fatti a rinunciare che si fatti a rinunciare che si fatti a rinunciare ci vorrebbero avere qualche figlio Crisi è una parola di derivazione greca vuol dire scelta, opportunità in sé il termine crisi che acquisisce un valore negativo non è in assoluto un termine negativo è stato bravo è stato bravo a nascondermi tutto c'è quel bellissimo passo di Hegel nella fenomenologia dello spirito che poi riprende Sartre nell'essere il nulla se noi abbiamo valore perché sono gli altri che ci danno valore io purtroppo mi sento in questo paese meraviglioso quale l'Italia mi sento un numero mi sento un numero di protocollo l'imprenditore si trova a scendere in guerra con le poche armi a disposizione di cui dispone io penso che a noi convenga scendere in guerra l'imprenditore l'imprenditore